Il massimo del minimo Il massimo del minimo I comuni del centro-sud hanno più difficoltà a fare cassa con tasse, tributi, tariffe e multe. Ad affermarlo è un'indagine realizzata da CRIF Ratings per analizzare quanto le amministrazioni comunali riescano realmente ad incassare dalle imposte e quale sia la capacità delle stesse di coprire le spese correnti. Per quanto riguarda la riscossione di tasse e tributi, la situazione mostra un'Italia divisa sostanzialmente in due, dicono gli autori dello studio sui bilanci comunali Marco Bonsanto e Davide Tommaso, con le regioni del nord che mostrano una buona capacità di riscossione, mediamente pari al 100%, mentre quelle del centro-sud arrancano con percentuali più basse, che si aggirano intorno al 93%. Unica regione del sud che ha percentuali simili a quelle del nord è la Basilicata. Sicilia e Calabria guadagnano la maglia nera in questa classifica, con le percentuali più basse, poiché in media inferiori al 90%. Secondo quanto emerso dalla ricerca, le più difficili da incassare sarebbero la tassa sui rifiuti e l'IMU. Nel caso della Tari, dati ulteriori sono stati oggetto di una commissione di inchiesta sui rifiuti del Parlamento, con risultati allarmanti che hanno fatto registrare nel 2015 tassi di mancati incassi che ammontavano mediamente al 24,43% lungo tutta la penisola. Migliore risulta essere invece la capacità di riscossione delle entrate tariffarie, dice il CRIF. La situazione mostra sempre un'Italia divisa in due, ma in questo caso le regioni del centro-nord, con esclusione del Lazio, mostrano buone percentuali di riscossione, che raggiungono in media il massimo. Al sud, la Sardegna mostra percentuali simili a quelle del nord, mentre viene confermata la maglia nera nella classifica per Calabria e Sicilia, dove si scende al di sotto dell'80%. Le tariffe più difficili da riscuotere sono le infrazioni da codice della strada. Per ciò che concerne invece la capacità dei comuni di pagare le spese correnti, le regioni del nord-est, la Lombardia, la Toscana, la Basilicata e la Sardegna hanno percentuali elevate, mentre Valle d'Aosta e Abruzzo si classificano come le regioni con percentuali di pagamento delle spese correnti più basse. Un altro dato considerato nell'indagine è quello del peso di tasse, tariffe e debito sui cittadini. Pagano in media più tasse e o tributi, circa 730 euro a testa, quelli residenti in Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania. Meno vessati, con circa 490 euro a testa, sono invece residenti di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Molise, Calabria e Sardegna. Pure la pressione tariffaria pro capite risulta essere più bassa per i residenti del Veneto e in generale per quelli dell'Umbria e del Sud, in media circa 165 euro a testa. Infine, a chi nasce o vive in Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania e Calabria, spetta una porzione di debito pubblico maggiore, ammontante a circa 1000 euro pro capite.